Ehi, bentrovati su Cassette Beasts, penultimo episodio del DLC ma non della serie Perché c'è ancora qualcosina da fare? Vediamo di scambiare i nostri biglietti premio come un altro pass a trazione per l'attrazione verde Ce ne rimangono solo tre, ma lei non ha altro oltre questi biglietti, giusto? Va bene, comunque vediamo un po' di raccogliere magari qualche altro biglietto qua dentro Perché se ci sono, o meglio, deve esserci qualcos'altro perché noi abbiamo tre in nostro possesso Che probabilmente e presumibilmente verranno consumati per altre, per qualcos'altro, per un'attrazione finale magari Stiamo scendendo? O è la stanza che cambia? No, questa è la stanza che cambia, non siamo noi che scendiamo È la stanza che cambia Allora, iniziamo subitissimo a esplorare questa casa della strega Mette paura, eh? Abbastanza Kaylee Vediamo un po' che cosa ci riserva questa casa degli orrori Aha, beh, cominciamo bene Allora, andiamo un po' Questo cosa ci sblocca? Uh, un tesoro dietro la libreria Qui non c'è altro, quindi proseguiamo Andiamo sopra? Credo Ah, ma qui c'è una nava A parte Kaylee che si è teletrasportata incredibilmente vicino a me Un altro biglietto premio Questo è importante perché conferisce un PA in più all'inizio della battaglia Per alcune mosse che sono molto forti e che richiedono solo 3 punti abilità Occhio di rubino, una gemma grezza foggiata Forgiata in modo da entrare in un castone molto specifico Ok Poi lì ci serve un'altra chiave per la libreria Dicevo, una mossa che a inizio del gioco ti dà un PA in più Scusami Non riesco a trovare all'uscita Se trovate questo messaggio non venite a cercarmi Piuttosto chiamate qualcuno in aiuto P P Chi potrebbe essere questa P Comunque un altro biglietto premio preso E niente Devo continuare da un'altra parte Perché di qua non c'è altro modo per andare avanti Nella libreria Ok Vediamo un po' di qua che ci sta Ok Questa statua Mi pare che l'abbiamo già vista quella statua dell'angelo Oi 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 Vabbè lui non ci dà problemi se non ci andiamo a sbattere contro Abbiamo Cappuccetto Un altro mostro nuovo E si è Cappuccetto Rosso E Ha una Un'evoluzione Doppia Puoi scegliere cosa farla diventare Qua abbiamo un mostro e basta Senso così Senza apparente motivo Eccolo qua Ovvio che l'occhio di rubino va qui Senza neanche che ve lo stavo a dire Ma se l'occhio di rubino andasse qui Si vede Cioè Certe cose nei videogiochi vanno in automatico Quindi Non ho neanche avuto il tempo di reagire Allora Ehm Penso di dover Andare qui Mamma mia quanta gentaccia Eccolo qua Si era da venire qui effettivamente Un mostro che sta ficcato in mezzo a nulla Tu che dici Sarà da andare lì Certo che sarà da andare lì Allora Ehm Cappuccetto E qua bisogna sconfiggerli per forza Io fonderei Fonderei assolutamente Apocorvo Bella Bombapustola Così colpiamo tutti Che è un gran piacere Andato Zanna rossa Non va Ebbè certo è più forte Zanna rossa È l'evoluzione Una delle evoluzioni di Cappuccetto Che poi ora abbiamo Hai Il copyright qua non ce ne frega niente Si chiama Cappuccetto E basta Il fatto che sia rossa È una pura casualità Certo Ma non è un problema Cioè Non è che dobbiamo preoccuparci Ne noi Anche se credo che sia di dominio pubblico L'immagine di Cappuccetto rosso Ok Apriamo un po' il pulsante verde Il pulsantone E tutte le lame Tutti gli spuntoni Non le lame Sono scomparse Ok Qui mi sa che c'è Un altro biglietto Ah pensavo la chiave Per andare dall'altra parte Allora scusami Dov'è la chiave Che mi serve per andare avanti Se non è qui Ah ok C'è quest'altra stanza Giusto Ma cos'è La palestra di Koga Che mi blocca il passaggio Mamma mia Ok No 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 Qui Ok Sì Bella però Ingegnosa Invece di mettere Dei muri invisibili Chiave della biblobeca Ah Questa è una reference Che nessuno capirà Però Gumball Comunque sia Se nel caso Vogliate approfondire Le vostre ricerche Ok Penso che ci siamo Grande Ok Andiamo alla biblioteca Cacca Puccetto Non farmi l'agguato Però Con paura Vai a portare Due frittelle Alla nonna Su Valla a portare Gwynn Che sta là fuori Tra l'altro Gin and tonic Ecco Era ancora K.O Poverino Allora Bene Entriamo Ok Abbiamo un libro Aiuto Abbiamo anche Libri Mostri Vieni qui Ma dove è andato C'era un libro Mostro E Non so Se Ha deciso Di non Affrontare Sono qui Vieni Affrontami Tipo Ah ok Quindi questo fa Su e giù Certo Ok E Qua abbiamo Un altro biletto Premio Ne abbiamo Otto Se non erro Se ho fatto bene I miei conti Ok Questi cosi Vengono qui Ora Ah Oddio Che paura Ok Oh Il tomo Il libro Ma perché Nessuno vuole Affrontarmi Che paura Ok Per fortuna Posso fluttuare E qui dentro Abbiamo una chiave Della sala macchina Verde Ok Ho aumentato La difficoltà Ho messo L'intelligenza Di due punti Più forte Di due punti Più difficoltà Aumentata Noi veniamo Spinti E andiamo Non ho la fusione Però Potrei mangiare Fusilli Che non consumano Il turno Però L'ultima macchina Dovrebbe essere qui Giusto Sì Kaylee E non è verde È gialla Ah ora è verde Un verde un po' pallido 57 No aspetta Aspetta Ok Furbissimo E difficilissimo Let's go Tra l'altro La casa Della strega Forse è quella Più scenicamente Parlando Bella Perché ci sono I libri Che volano C'è Cappuccetto Che non so perché È fatto bene Come mostro È carino Poi c'è Zanna rossa Oh livello 64 Oh Come il Nintendo E il Mac Soprattutto Che non può entrare Allora Distillato Tanto per confonderlo E il muro d'aria Per insomma Proteggerci un pochino Prendiamo un po' di danno Ma ci proteggiamo È confuso È giusto Perché se no Con un attacco Ora che è furbissimo Colpo Buono Non ci rompe niente Vero? Meno male Tracanna Benza La Benza Tracanna Da Kaylee No da Link Potrei comunque Fare sputo Invece che distillato E sputo anche con Kaylee Vediamo Se riesco a caricarmi Non fondo Ma se non riesco No Cioè Devo fondere No Fa tracanna a benzina Ogni volta Amico mio Ho capito Che ti piace bere Però Anche meno Che poi i danni Comunque sia Riprende Quindi Ok Muro è andato via Cannone ossa Va bene Attacca Link Perfetto Siamo appunto A capo Però Così Cioè Ogni volta Non lo so Dovrei avvelenarlo Per fargli qualche danno Buono Senza che faccio Il muro d'aria Tanto abbiamo visto Che attacca Comunque sia Non è che fa Quel gran male Che pensavo Fa morso Va bene Almeno non fa Tracanna a benzina Dunque Fa due attacchi Sì Certo Gintossicazione E Muro d'aria Lo rifaccio No no Solo per me Ho protetto Non ho la protezione Per entrambi Vabbè Se fa l'attacco finale Gin and tonic Si prende un po' Di dannetto Fa morso Bene Ok Non ha fatto Tracanna a benzina Il che è Perfetto Quindi ora Noi andiamo Con Uraghieno E Andiamo E combina Teili E Ah Ingranaggi La sua Su Keili Bene Male che va Ne prende due Ok Va bene Va bene Cannone di vetro E poi Boato sonico Può essere Che mi manda Che mi manda Non mi manda K No no Può essere Perché Dici Sai no Potrebbe succedere Ma non è Non succede Ah Vemberserker Può usare solo attacchi Quindi non può fare Tracanna a benzina E che è solo a mio favore Se non può fare Tracanna a benzina Posso caricarmi Bene bene Allora Riavvolgiamo Jane and Tonic E riavvolgiamo Anche Keili Bene bene Per tre turni Ce lo teniamo Buono Lì senza fare Tracanna a benzina Io posso caricarmi Non è molto furba In realtà Staglia Furbissima Non mi pare Vorrei fare tantissimo Colpo alla testa Ma dopo è troppo facile O disintegro Con colpo alla testa È troppo forte Come attacco Morso Il morso Della belva Facciamo un altro Gintossicazione E buato sonico Vai Così lo confondiamo Bene Direi che non manca Molto per finirlo E andata Anche questa macchina Allora La difficoltà L'avete vista Era difficilissima E furbissima Come Intelligenza artificiale Ma io mi chiedo Se l'avessi messa Al massimo Avrebbe raggiunto Il mio livello Quindi il DLC Non è che è tanto Difficile Alla fin dei conti È piuttosto semplice Perché In teoria Puoi farlo anche Durante la storia principale Quindi Vabbè Lo scaling È tutto quanto A favore tuo Certo Però È un po' strano Mi aspettavo Che saltasse fuori Gwen E si congratulasse Con noi O qualcosa del genere Parla con Gwen Ehm Sì Magari Nel prossimo episodio Questo muore inquietante Mi suscita tante domande È stato qui Sin da quando Nova Virla L'ha abitata Da dove arriva? E Gwen È sempre stata qui? Si trucca da sola? È single? L'ultima domanda Era stato uno scherzo Giuro Sì Kaylee Ha tendenze lesbiche Però Kaylee Ha Tendenze Lesbo E si vede per Tante volte Quando interagisce Con gli altri personaggi Quindi Non capisco perché Farci avere a tutti i costi Una romance Con Anche con lei Che ha Tendenze Questo tipo di tendenze Quindi perché Darci la possibilità Di avere una romance Con lei Cioè Levala con tutti la romance Non metterla con nessuno Amici Direi che nel prossimo episodio Andiamo a parlare con Gwen Vediamo che cosa succede E termina il DLC E poi Si torna Con l'ultimo O gli ultimi due Episodi Del postgame Io vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti I link utili E ci vediamo ovviamente Al prossimo video Ciao Ciao